Votare sì per ammodernare e rendere più efficienti le proprie istituzioni è una cosa molto concreta ed incide concretamente sulla vita dei cittadini. Alcuni esempi. La riforma del Codice della Strada è ferma in Parlamento da 1290 giorni. La legge sui delitti ambientali, cioè la tutela dell'ambiente, ha impiegato tra Camera e Senato per l'approvazione 800 giorni e addirittura la legge contro la povertà è ferma in Parlamento da 350 giorni. Ecco, con la riforma costituzionale ci saranno tempi certi per l'approvazione di una legge. Entro 70 giorni la Camera dei Deputati dovrà approvare le leggi.